Come noterete dalla location c'è stato un nuovo cambiamento di setting. Sono ritornata da Jimmy in montagna e perché non stavo bene. Ho passato gli ultimi due mesi in vacanza sempre tornata da persone. Prima con la mia famiglia, poi con Veronica, poi con Jimmy. Ho passato l'ultimo mese con Jimmy e settimana scorsa sono tornata a casa Padova per passare una settimana a casa da sola con Luna. Solitamente non ho mai avuto problemi, anzi recentemente non ho mai avuto problemi a stare da sola, anzi come sapete io a Piacenza vivo da sola e sto benissimo. Ho il mio mondo, le mie cose da fare e ho sempre detto che da sola sto bene e ho anche sempre detto con Jimmy è un pochino meglio, molto meglio. Però sto bene da sola e ero quasi felice di tornare da sola perché volevo un po' tornare alla mia routine, alle mie cose da fare. Volevo stare un attimo ferma, placarmi perché comunque ho passato gli ultimi due mesi in continuo movimento, una volta di qua, una volta di adesso, una volta a sinistra. Prima di tornare avevo un po' di timori perché dato il mio passato, dato quello che è successo in passato, io quando ero da sola era il momento in cui mi sentivo abbandonata, mi sentivo lasciata a me stessa, mi sentivo un po' anche inutile e quindi mi deprimevo e quindi cadevano le abbuffate. Quindi un pochino la mia paura prima di tornare adesso a Padova per questa settimana era che questo ricapitasse e risuccedesse. Jimmy mi ha tranquillizzato perché comunque gli ho espresso questa mia sensazione, mi ha tranquillizzato e mi ha detto che adesso sono forte, che non sarebbe successo. Allora grazie anche alle sue parole rinquaranti sono tornata a casa con più tranquillità. Era da un po' che non tornavo a casa quindi avevo molte cose da fare, cavolate, passare in comune, passare a ritirare il mio diploma dell'università, avevo un pochino di cosa da fare e cercavo di distribuirme nelle giornate affinché avessi sempre qualcosa da fare e in più avevo anche la possibilità di ritornare in palestra e infatti sono tornata. I primi giorni sono andati bene, me li occupavo andando in palestra, facendo la spesa, andando a fare un giro in centro, ho sempre trovato qualcosa da fare e mi occupavo il tempo. Solo che andando avanti nelle giornate, coi giorni, sentivo la mancanza di qualcosa o comunque la mancanza di qualcuno. Sentivo che nonostante mi occupassi il tempo, nonostante cercassi di impegnarmi le ore o la mattina e il pomeriggio, una cosa durante la giornata mi mancava ed era il parlare con qualcuno. Cioè io ero completamente sola dalla mattina alla sera, non parlavo con nessuno a casa, se non con l'una ma lei non risponde, in palestra non conosco nessuno quindi magari un ciao ciao ma niente di più e siccome ho finito l'anno dando tutti gli esami non ho nemmeno da studiare, qui non ho nemmeno la scusa di occuparmi il tempo o la mente studiando. Quindi io la mattina mi svegliavo e non avevo un obiettivo, non avevo qualcosa da completare durante la giornata, cioè io mi svegliavo e non avevo niente da fare. Questo più la mancanza del rapporto umano mi ha destabilizzata. Mi sono sentita sola, mi sono sentita abbandonata e ho incominciato a sentirmi inutile perché io sono una persona che, e l'ho sempre detto, se la mattina mi sveglio e non ho un obiettivo della mia giornata ma il mio obiettivo è soltanto vegetare, sopravvivere, stare, per me quella non è vita. Cioè sono sensazioni stranissime perché ti incomincia a mangiare dentro, cioè io avevo perso la voglia di fare cose. Mi svegliavo la mattina non dovendo fare niente, non avevo voglia di alzarmi, non avevo la motivazione di alzarmi. Anche se trovavo un impegno andare a fare la spesa, rimandavo. Programmavo di andare in palestra, ero felice di andare in palestra perché almeno facevo qualcosa. Appena arrivavo in palestra non vedo l'ora di andare via. Queste sono sensazioni che non serve essere depressi per provare, basta essere persone normali, vivere isolate dal mondo senza un contatto umano che sia con il ragazzo, con l'amica, con il vicino di casa. Una chiacchierata al giorno davvero, davvero toglie il medico di torno. Il fatto di stare con persone, parlare, fa tantissimo. Questi quattro giorni che ho passato mi hanno ricordato tantissimo il mio periodo nel gennaio-maggio 2013, di quando passavo tutte le giornate seduta sul divano o a casa perché a gennaio avevo lasciato la mia università ad Amsterdam e dovevo aspettare settembre per riscrivermi e ricominciare l'università a Padova. Quei primi tre mesi li passai a Padova da sola con mia mamma che andava al lavoro, usciva la mattina alle 8 e tornava la sera alle 8. E infatti quello è stato il mio periodo di maggior solitudine, il mio periodo peggiore e terribile per le abbuffate. arriva ad abbuffarmi fino a 5 volte al giorno e adesso, in questi giorni, così nulla facente, mi sentivo come a quei tempi. Ho riprovato le stesse sensazioni perché è come se incomincia a crearsi un vuoto dentro di te, cioè cominci davvero a sentirti inutili, incominci davvero a... cioè sono sensazioni stranissime perché so di non essere inutile, so che le persone mi vogliono bene, so che la gente mi ama o persone che mi adorano, però dentro la testa il fatto di stare sola e sentirsi soli si reinforza man mano che ci stai e più che ci stai. Quindi io già dopo 3-4 giorni ho incominciato a sentire queste sensazioni e l'ho manifestato, l'ho detto a Jimmy e l'ho detto a mia mamma. E la mia soluzione era quella di venire qui in montagna da Jimmy. Diciamo che quella sera ho trovato un po' di porte chiuse, perché penso che sia Jimmy che mia mamma non avessero capito davvero quanto stavo male, proprio perché io ho sempre detto, soprattutto recentemente, di stare benissimo da sola, quindi magari non avevano percepito e non sono riusciti a cogliere il mio disagio. E quindi siccome il mio spostamento avrebbe creato comunque dei problemi, dei casini, mi hanno un po' fatto desistere e mi hanno un po' convinto a rimanere. Diciamo che poi si è anche messo in mezzo il mio spirito d'orgoglio, che poi è stato anche rinforzato dal sentirmi sola, e quindi non ho più chiesto aiuto nonostante io stessi sempre peggio. avevo creato una specie di muro, mi sono trovata delle porte davanti, io ho creato una barriera davanti a me per cercare di tenere fuori tutte le sensazioni negative e i pensieri negativi, però dentro di me mi stavo logorando. questo mio meccanismo di autodifesa non è servito a niente, perché comunque mi sentivo sempre più sola, sempre più inutile, e avevo paura, avevo paura di cadere nelle abbuffate, perché comunque le mie abbuffate sono sempre state scatenate da queste sensazioni, sensazioni di fallimento, sensazioni di solitudine, sensazioni di sentirsi inutile, e io non volevo che succedesse, cioè per me ricadere una abbuffata non dico che sarebbe uno smacco, però penso di aver raggiunto un tale equilibrio mentale e fisico che non voglio che questo accada, e siccome ho imparato a captare e capire i segnali, allora ho deciso di mettere da parte il mio orgoglio e fare di tutto affinché la situazione cambiasse. Durante una telefonata con Jimmy, dove io facevo la dura, dicendo che tutto andava bene, tutto a posto, stavo benissimo, è riuscito a far crollare il mio muro di parole e mi ha fatto sciogliere, mi ha fatto dire esattamente come mi sentivo, che stavo male, che stavo soffrendo e che non ce la facevo più. Questa telefonata è venuta alle 16.30 e Jimmy ha fatto sì che prendessi un treno a 17.53, perché ha capito la situazione, ha capito che non potevo stare lì e ha capito che dovevo andare via. e così ha fatto, quindi adesso sono qui, sono arrivata ieri sera, sto molto meglio e il fatto è che comunque siamo qui in montagna senza fare niente, cioè non sto facendo niente di più di quello che facevo a casa, perché comunque, cioè non è che le cose da fare si sono create, non avevo cose da fare prima, non le ho neanche adesso, però non mi pesa. Il fatto di avere un contatto umano con Jimmy, con i suoi genitori, il fatto di parlare, a cena stare insieme, girarmi e trovare una persona che mi rivolge una parola, un sorriso, questo è quello su cui noi come esseri umani ci costruiamo la vita. Cioè io, è vero, io sto benissimo da sola e non lo nego neanche adesso che sembra che stai dicendo il contrario, però penso che comunque sto bene da sola quando a Piacenza ho comunque dei contatti umani, cioè io comunque frequento l'università, ho contatti con i miei amici, con i professori, con Veronica, in palestra conosco le persone. Io non sto dicendo che per stare bene bisogna stare in compagnia o che per stare bene bisogna avere un fidanzato. Io penso che per stare bene bisogna avere un contatto umano perché siamo umani. Io ho Jimmy ma potevo benissimo andare dalle mie amiche, da Veronica, che si era proposta ma causa Luna effettivamente, non potevo andare perché qui Luna aveva il suo posto e Veronica in quel momento no, quindi anche questo ha creato un po' di problemi. E niente, spero di essermi fatta capire. Spero che questo mio sfogo vi aiuti, vi sproni a cercare di capire quello che vi fa stare male quando state male, analizzarlo, capire perché sta succedendo e non essere vittime di queste sofferenze. Cioè se vi sentite soli, ditelo. Io ho messo davanti a me l'orgoglio e fin quando non ho ceduto o fin quando Jimmy non mi ha fatto cedere, io testarda come sono sarei andata avanti tutta la settimana, stando male. Spero che questo video vi sia utile, che vi faccia pensare al fatto che se magari vi sentite soli, abbandonati, provate a reagire, capire cosa vi fa star male e fare qualcosa al riguardo. Per me il fare qualcosa al riguardo è stato salire su un treno e venire da Jimmy. E infatti adesso sto molto meglio. Ho la testa che si è completamente liberata da tutti quei pensieri stupidi, inutili e assurdi. E basta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.